Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Ma che cazzo sta a dire? Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. E sti cazzi? Segnate sto nome, ascoltami. E sai chi cazzo sono io? E che cazzo sei tu? Io sono quello che abita là. Sti cazzi, se mi vieni da fare l'impianto bene, sennò non me ne frega un cazzo di niente, capito? Sti cazzi, se non mi ha attaccato il telefono e entro domani, a me non mi frega un cazzo, vado sul fatto. Vai dove cazzo ti pari? Vai dove cazzo ti pari? Ma scusa, hai visto? Hai visto ancora che succede? No, ma anche di dire. Ancora usa questi metodi, signor Carminati. Io abito là. Ma no, ma è pazzesco. Poi la gente ha capito un po' l'antifono e risponde per le rime. Non si fa a mettere i piedi in testa a Sio Carminati. Gli operatori di telefonia, i signori riparatori di telefoni, eccetera. Ma c'è già uno del materiale incredibile. Senti ancora. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Pronto? Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo. Quando me sono segnato? Se me venite a fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, hai capito? Ma con chi sto a parlare, scusa? Io sono quello che abita là. Quello? Io sono quello che abita là. Ma con chi vuoi parlare? Scusi, io manco te conosco. Segnatelo sto nome, ascoltamelo. Tu fai su internet e sai chi cazzo sono io? No, ma io non lo so e non lo voglio sapere. Va a te raffanculo, va. Se non mi ha attaccato il telefono e entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su fatti. Ma tu stai a cercare quello là dei telefoni che ho fatto il cazzo di audio? Che cazzo c'entro? Io sono quello che abita là. Va a te raffanculo, va. Signor idraulico, se ero sbagliato, se ero sbagliato, ora che ti torna la tosse, ti torna la tosse, oh, ti torna la tosse. Questo fa ridere una mente. L'idraulico. Oddio, ragazzi.